Ultimora, Tavecchio si è dimesso. Carlo Tavecchio quest'oggi dopo la riunione del Consiglio federale ha capito di non avere più numeri per essere sostenuto e si è dimesso. Quindi ora è ufficiale. La notizia che tutti attendevamo, il presidente della Federcalcio finito sulla graticola dopo il flop mondiale della nazionale, si è dimesso.